Il nostro progetto nasce nella sala d'attesa, nella sala d'attesa dove c'è il caregiver, il caregiver, il paziente invisibile, con un sostegno al paziente affetto da sclerosi multiple, con un carico e un onere di impegno non soltanto professionale come assistenza, anche se parliamo di caregiver informale, ma anche sociale e affettivo, notevolissimo. Questo progetto sarà portato avanti con un percorso di sostegno psicoterapeutico, cognitivo, comportamentale, con analisi dei risultati sul caregiver a più alto rischio di burnout. Chiaramente i risultati che potremo avere e verificheremo saranno quelli di miglioramento della qualità di vita nel caregiver stesso, nonché nel soggetto affetto da sclerosi multipla, anche in relazione a disabilità non soltanto non motoria, ma anche motoria. Ringrazio per questa possibilità che la Roche ci ha dato di portare avanti questo progetto di lunga durata perché comporterà un impegno di 18 mesi e quindi col sostegno della Roche potremo impegnarci. Ringrazio tutta l'unità operativa in neurologia di Brindisi, in particolare il gruppo di sclerosi multipla e la dottoressa Spagnolo che è stata l'ispiratrice del concetto di sostegno.